amici sportivi amici fanta allenatori buongiorno bentrovati dal vostro veterano del fanta calcio e quindi una grande serata anzi un grande tardo pomeriggio una grande serata anche in televisione quindi per sottolineare l'importanza del fanta calcio e ci abbiamo visto i ruoli in anticipo le spoiler di fantacalcio.it su tv 8 li abbiamo seguiti con grande apprezzione e attenzione anche in diretta live quindi sono davvero molto contento perché il canale sottoscritto stanno facendo un lavoro di grande costanza di grande eccellenza al supporto di tutti i fanta calci e di tutti i fanta allenatori dove ripeto ancora una volta il bene del fanta calcio e il bene dei fanta allenatori viene prima di tutto viene prima anche di interessi egoistici per questo motivo mi sto spendendo moltissimo quest'anno quest'estate per il fanta calcio per darvi tutte le informazioni necessarie oggi nel video parliamo di cambi ruolo e di bag di listone davvero importante prima di partire come sempre vi ricordo informazioni quasi di servizio ma che aiutano molto il canale quindi sono i soliti consigli quindi like passaparola positivo un po di condivisione se volete se vorrete fate un passaggio al link sotto di fanta lab devo dire per quanto mi riguarda link fondamentale per aprirvi la mente del fanta calcio e soprattutto fate un passaggio anche sull'area premium perché è davvero importante fare questo passaggio per voi e per tutto il movimento di fanta lab un grazie di cuore parliamo prima di cambi ruolo e poi di bag di listone alcune novità erano un po nell'aria altre invece tanti mi hanno un po preso in giro perché pensavano che appunto non sarebbe andata a finire così o veniamo insistere su zaccagni e su pulisic centrocampisti così è stato effettivamente mi sono anche abbastanza scontrato con alcuni fanta allenatori ma alla fine pulisic è vero che nel passato è sempre stato considerato una attaccante ma effettivamente nel ruolo del milan e quindi nelle infrastrutture di gioco di pioli e più centrocampista quindi secondo me giusto pulisic centrocampista comincia essere più appetibile in questo caso e per quanto riguarda le 100 cagni era al limite l'hanno selezionato come centrocampista devo dire un bel top un bel super top di listone al fanta calcio chiaramente in questo caso occhio solamente al prezzo tra i due tra felipe anderson che rimane chiaramente con fanato c'era pista e zaccagni continuano puntare su filipao perché mi dà garanzie di rendimento con con sarri mentre zaccagni intanto qualche piccolo periodo di voto c'era però chiaramente sono entrambi top di reparto a mio avviso felipe anderson si paga un pelino meno di zaccagni per questo motivo vado a preferirlo altro giocatore che è centrocampista ma che in alcuni fanta calci era l'istrato il difensore e uea e in questo caso anche per l'americano cara un attimo la hype ma attenzione perché non è una cosa banale uea viene molto considerato è un giocatore chiaramente da quarto o quinto slot però eppure essendo centrocampista si paga un pochettino meno però viene molto bene per piazzare per puntelare le vostre cose di fanta calcio per quanto riguarda poi casa minan come detto pulisic centrocampista è un bel affare questo occhio solamente la tenuta fisica al mio avviso un buon un buon lavoro si può fare sul nigeriano ciockeze centrocampista diventa l'alter ego di leao che rimane attaccante quindi anche in un'ipotetica spina dorsale rosso nera con magnan con magari tomori con ciockeze con raffa leao non è da escludere perché effettivamente in questo caso abbiamo una spina dorsale veramente molto ben fatta del nostro fanta calcio e ciockeze chiaramente al centrocampo diventa un po più appetibile un po più di però chiaramente possiamo garantirci perché nigeriano ai numeri per poter restare benissimo sulla fascia destra del milan a centra se andare al tiro fare cross e quindi veramente un bel un bel lavoro da parte di fanta calcio punto it rimane centrocampista anche orsolini sono davvero molto contento attenzione perché orso se continua la spirale che ha avuto con tiago motta diventa uno dei top di reparto alcuni lo considerano ancora non un bel top deve chiaramente confermarsi quindi in questo caso occhio e prezzo è un suggerimento molto valido perché l'ho avuto in passato orso e qualche volta si addormenta che mi piace molto generale goodmussen anche in questo caso centrocampista anche se c'erano i presupposti per poterlo vedere attaccante pericolo scampato in questo caso dico attenzione perché goodmussen è un bel giocatore un bel terzo slot pieno si paga all'intorno del 5 per cento mio avviso vedremo come vanno le prime aste ma un giocatore davvero in rosa perché potenzialmente la centrocampista può avvicinarsi la tua città quindi un giocatore su cui porre grande grande attenzione interesse massimo anche per quanto riguarda per quanto mi riguarda su quadrato che passa il difensore e mi piace molto darà del tiro da torcere da un frise questa è una bella notizia ci sarà bella concorrenza ma credo che il colombiano possa avere quel qualcosina che possa aiutare anche a crescere ancora di più l'ambiente inter e credo che abbia voglia parecchia voglia di rimassare i confronti della juve che lo ha fatto scadere come contratto e quindi sarà quanto meno nei primi sei mesi quattro mesi diciamo quattro mesi fino a fino a dicembre è un bello sprint quindi puntiamoci soprattutto in fase iniziale per quanto mi riguarda le ho detti tutti si passano invece attaccanti ed era abbastanza nell'area quara scheria era un po meno nell'area quello di federico chiesa che potrebbe posizionarsi come seconda punta quindi anche in questo caso scelta assolutamente giusta e corretta c'era stato un po di dibattito sul fatto che appunto zaccagni e quara calcino le stesse zone di campo e quindi potevano un po essere i stessi ruoli però a mio viso giusto così federico chiesa perde un po di hype ma attenzione perché federico soprattutto se fate le aste in questi giorni è da prendere si prende come terzo quarto slot e si fa veramente un ottimo affare anzi se avete anche contatti pluriannale infatti anche lui è perché comunque ha fatto due ha scontato due anni in infermeria e poi quara attaccante va preso sempre e comunque non indugiate su quara potrebbe avere un po meno hype nel senso che passa attaccante le ultime dieci partite mi pare che non abbia fatto neanche un bonus è il momento giusto per comprarlo sì attenzione io dato come prezzo limite massimo il 14 15 per cento oltre questa soglia anche a un quara scheria di alto livello può andare a non ripagare l'investimento quindi queste sono le cifre importanti su cui andare a puntare vediamo un po di bag di reparto cioè quei giocatori che sono posizionati in una fascia di campo di listone che però possono avere una propensione offensiva maggiore passiamo dei difensori che sono stati difensori ma che possono giocare in fase più avanzata quindi sulla linea di centrocampo parliamo dei due dell'alternata zappacosta e bacca quindi belli innesti in rose in questo caso zemmura dell'udinese ancora tutto da scoprire per la nuova invece potrebbe giocare a sinistra con singo a destra quindi seguiamo con attenzione perché per la nuova è veramente un bel baggone singo si rimane confermato a torino può essere un bel bag ma zocchi dell'esternale veramente vorrà avere tanta tanta voglia di rivarsi a chiri a coppolo salmozza quindi in questo caso l'esterno può veramente fare un ottimo campionato non chiaramente super eccellente ma un buon campionato occhio carlos augusto da capire quale sarà il suo futuro quadrato come detto abbiamo appena analizzato di marco è un giocatore che chiaramente va fuori loro perché gioca esterno nel 5 di centrocampo e poi martin del giro una bella scommessa invece centrocampisti che possono giocare in fase più avanzata abbiamo detto appunto di non abbiamo corretto di radonici attenzione chiaramente alla voce infortuni oristagno del cagliari quando giocherà potrebbe giocare verso la fase avanzata ambula del verona un bel innesto in questo caso l'esterno c'è una pista siamo davvero contenti una bella scommessina un po sottotraccia è vero che sta facendo bene nei cavoli estive però attenzione perché il prezzo deve essere commisurato effettivamente all'investimento previsto pulisi come detto un bel fuori ruolo politano confermato centrocampista quindi garcia lo vede abbastanza quindi si può puntare qualcosina strepezza da valutare che un nuovo mister ciò questo che ha fatto una bell'analisi poco fa così come felipe anderson così come rossolini e così come zaccagni percorso inverso come detto per federico chiese quara che passa in attacco ma attenzione perché anche caso del frosinone passa in attacco da centrocampista in questo caso potrebbe starci come quarto quinto slot perché il talento c'è attenzione solamente a calcio mercato perché caso potrebbe essere un giocatore che può essere interessabile anche da parte della santa e pirlo lo vuole la sua corte prima di chiudere vi ricordo che la mia strategia è già caricata da diversi giorni e in questo caso devo dire che sono davvero contento perché è una strategia alla quale ho dedicato parecchio tempo parecchie risorse impegno tutto ben fatto scritto per filo per segno spero che non mi sia sfuggito nulla chiaramente possano fatemelo sapere ma è stato un lavoro veramente da certosino fatto molto bene per voi è veramente è importante in questo caso secondo me fare un passaggio anche sulla del primo perché veramente ha un costo direi risibile meno di un caffè al mese per 12 mesi ma potrete scaricare non solo la mia strategia classico mantra ma quella di tutti gli esperti e quindi ha ancora più valore aggiunto questo questo investimento vi ringrazio e vi auguro una buona giornata buon fantacalcio a tutti per queste necessità sono a disposizione e vive il fantacalcio che è il gioco più bello del mondo dopo il calcio un abbraccio ciao ragazzi Grazie 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 Grazie.